Il mondo dello sport nisseno e in particolare quello del karate piange la scombarsa del maestro Calogero Viticchie, uno dei più grandi maestri nisseni di karate tradizionale storici siciliani. Calogero Viticchie è morto ieri nel tardo pomeriggio a 71 anni. È stato per centinaia di sportivi nisseni il più importante maestro di karate shotokan, un ispiratore e una guida per molti giovani e maestri. Viticchie ha iniziato a praticare l'arte del karate nel lontano 1973 con Lorenzo Crianza, allora cintura marrone in un piccolo garage di circa 30 metri adibito a palestra, sito in vicolo Guarnaschelli a Caltanissetta. Successivamente viene a conoscenza del maestro Torresanto di Catania, allora cintura nera terzo dan rilasciata dalla Federazione Fesica, con a capo il maestro Hiroshi Shirai, il quale ha studiato karate per molti anni a Milano. Calogero Viticchie non solo è stato solo un maestro di karate, ma anche un esperto pasticcere nisseno. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Pio X. A presto.